Annalisa De Simone, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E bentrovata qui nel posto delle parole per raccontare, seppure nella brevità di questa conversazione, il suo romanzo Sempre soli con qualcuno, pubblicato da Marsilio. Leggo nei svolto di copertina che Annalisa De Simone, nata all'Aquila e vive a Roma, laureata in scienze umanistiche e filosofia, ha esordito con il romanzo Solo andata, pubblicato da Baldini e Castoldi e poi con Marsilio, invece ha pubblicato Non Adesso, per favore, nel 2016 e poi nell'anno successivo Le mie ragioni te le ho dette. Nella collana Passaparola, le amiche di Jane, sopravvivere all'innomoramento con orgoglio e pregiudizio di Jane Austen. Beh, devo dire Annalisa De Simone che questo libro Sopravvivere all'innamoramento forse un pochino, se vogliamo, attraversa anche questo romanzo di sopravvivenza, di innamoramento. Genostet è sempre bello citarla in ogni caso. Annalisa De Simone, io vorrei cominciare la nostra conversazione perché la prima volta che mi sono imbattuto nel suo romanzo, mi sono imbattuto nell'immagine di copertina e come spesse volte succede, l'immagine di copertina ti dice qualche cosa, non sempre, la copertina è così parlante. Questa volta mi diceva qualche cosa, ma mi diceva qualche cosa di un già visto e io desidero ricordare ai nostri ascoltatori che questa è una copertina sicuramente molto singolare perché tutto subito sembra una fotografia, ma è qualche cosa di diverso, è un'opera d'arte perché stiamo parlando di un'iperrealista, oggi non mi vengono le parole Annalisa De Simone, iperrealista, Sergei Piskunov e io sono rimasto veramente molto contento di rivedere una sua immagine. Ce la vuole far vedere con parole sue come ci dicevano a scuola? Sì, guardi, a me ha colpito subito questa immagine perché sembra una fotografia, in realtà c'è un virtuosismo estremo, è un quadro, è il primo piano di una donna con gli occhi chiusi, immersa nell'acqua e mi è piaciuto perché sì, c'è in potenza un racconto ma in realtà ha tanti racconti, non si capisce se questa donna sia lì a riposarsi nell'acqua, sia felice oppure no, l'acqua poi ha anche tante valenze simboliche a che fare con il sonno, profondo, a volte anche con la morte, quindi c'è un che di perturbante, una dimensione che sia angosciante ma allo stesso tempo indica forse un riposo e il riposo quindi è sempre un po' la conclusione di una parabola, quindi chissà che cosa è accaduto prima. Comunque insomma è un'immagine che ne apriva altre, che era un racconto diverso ogni volta e quindi è stato anche molto semplice sceglierla. Sì, dice bene, diverso ogni volta, a me è accaduto la stessa cosa, Annalisa De Simone leggendo, perché questa immagine quasi, non dico si trasformasse leggendo, ma prendesse dei significati sempre più, per così dire, quasi carsici, quasi psicanalitici, questa donna che è nell'acqua ma non del tutto e qui veramente molto particolare per rappresentare la storia di questa giovane donna sposata, vive a Roma e la sua vita è apparentemente normale, ma. E quando c'è la normalità c'è sempre un ma, come forse in ogni storia e questa non è una storia che dobbiamo leggere pensando di vedere questi protagonisti dal buco della serratura, no. Qui è una porta che Annalisa De Simone lascia aperta, lascia aperta, lascia che noi siamo quasi, non dico oltre, ma stiamo sulla soglia, perché la soglia, in questo romanzo stare sulla soglia è molto importante e la soglia è una parola importantissima anche per questa giovane protagonista, Annalisa De Simone. Sì, è vero, guardi, mi piacciono molto queste sue parole sul libro perché, ha detto bene la soglia, c'è una fase di vita che è quella che attraversa la mia protagonista, è una donna di 37 anni, quasi 38, una fase di vita in cui più che la promessa di un lungo domani che ci sarà dopo, si sente un po' la responsabilità di fare delle scelte che non sono più procrastinabili, quindi questa donna si interroga su se stessa, sulla vita che vive accanto a un marito che sembra comprenderla, un marito che ha scelto, che lei ama e si interroga sul suo desiderio di maternità e il marito non è che non vuole questo figlio, però nicchia, antepone i suoi impegni, la carriera, il lavoro e quindi si crea in questo una lontananza, un'incomprensione, un vuoto che poi come spesso accade nella vita, un vuoto che viene colmato dalla presenza di un altro uomo, un uomo molto diverso da lei, dal suo ambiente, dal suo coté che però finirà per essere più capace d'ascolto, per ascoltare queste sue fragilità, questi suoi dubbi, queste sue paure in modo più forte rispetto a quanto faccia il marito. Eh sì, perché non è tanto per noi lettori essere interessati a come va a finire questa storia di amanti, no? Non è tanto questo il problema, no? Noi ovviamente non lo sveleremo, però scoprire qual è la relazione tra questi due amanti e qual è in quello iato che nella loro esistenza di convivenza hanno creato, sia uno che l'altro, perché è uno spazio che hanno contribuito tutte e due a creare, ma è una storia che possiamo leggere non come una storia che non ci appartiene, una storia che ci appartiene anche se non ci sono questi, anche se non ci sono queste, possiamo chiamarle derive, possiamo chiamarle in qualsiasi modo, sì, chiamiamole pure derive, ma in ogni modo quando c'è uno spazio vuoto ci si aggrappa, si approda da chissà quale parte, nel positivo e nel negativo. Ma prima di entrare dentro la storia lei, Annalisa De Simone si affida delle parole che sono per me molto care, perché le parole di Chandra Livia Candiani non possono che essere parole di straordinaria corrispondenza. Di cosa vanno in cerca i cani? Non dire di cibo. Si sente che hanno perduto qualcosa e lo cercano ovunque col naso, col fiuto. Si sente che hanno mappe per l'assenza. Allora anch'io fiuto quest'odore di alta montagna dell'assenza, questa crepa che si allarga. Quando sarò tutta crepa, sarò di nuovo intera. Non poteva scegliere parole migliori per rappresentare in sintesi, ma non solo questa storia, Annalisa De Simone. Sì, pensi, il titolo l'ho preso da una poetessa che amo molto, Patrizia Cavalli, sempre soli con qualcuno, che è un verso che appena letto mi ha subito parlato. E anche l'esergo che lei ha letto di Livia Chandra Candiani è stato proprio fulminante, perché quando sarò tutta crepa, sarò di nuovo intera. È la forza delle parole che restituiscono poi non solo un'immagine, ma proprio la storia di una vita, perché spesso accade questo. Nel momento in cui si è sulla soglia di cui parlavamo prima, a volte capita che devi cadere nel vuoto per arrivare a qualcosa di compiuto. Devi comunque attraversarlo, quel vuoto, per poi rinascere o comunque capire dove posizionarti all'interno delle scelte di vita che compi. E questo verso, quando sarò tutta crepa, sarò di nuovo intera, racconta appunto nella sintesi della poesia forse tutta la storia del romanzo. Ma la nostra protagonista, Annalisa De Simone, penso che non è come quel cane che ha mappe per l'assenza. Lei le mappe non ce l'ha. La mappa se la trova, se la trova senza nulla fare, no? Magari facendo un viaggio in ascensore. Sì, con un incontro fortuito. Spesso accade che la scintilla venga proprio nel momento in cui meno te lo aspetti. Questa donna non aveva considerato né l'incontro con l'uomo che diventerà il suo amante, né di mettere in dubbio e in discussione tutta una vita che sembrava prestabilita. Perché, ecco, le mappe dell'assenza forse significa anche questo. Nel momento in cui si vive una vita, un rapporto, un sentimento, lo si dà per scontato. È come se ci fossimo messi in una modalità per cui siamo poco disponibili anche all'ascolto e a ciò che ci accade intorno. E poi, invece, basta un nulla come il venire a galla di tutti i suoi dubbi e soprattutto questa domanda. È la vita che volevo vivere? È l'uomo che ho scelto? È l'uomo giusto per accompagnarmi nella mia vita? Ecco, quando vengono a galla questi dubbi e l'amiccia, appunto, il desiderio di maternità e l'incomprensione fra loro due, accade l'incontro con quest'uomo. E quindi è come se si scompaginasse tutto. È come se, appunto, attraverso questo vuoto lei, però, poi riuscisse a trovare delle sue mappe personali, un suo percorso. Ed è un percorso di autodefinizione. In fondo questo è un libro che racconta una parabola di crescita imprecisa, però pur sempre una crescita. Autodefinizione, ma com'è difficile questa parola, Annalisa De Simone, perché nel momento in cui, mi correga se sbaglio, io mi autodefinisco o definisco una cosa, forse, come logico che sia nello spazio sentimentale, la definizione è già superata. C'è bisogno di qualcos'altro ed è qui la parola mappa che ci viene in aiuto, perché definire di avere, per esempio, un bambino è una definizione straordinaria. Decidere di avere un figlio è una scelta, complessa, a volte necessaria, ma decidere di avere un bambino per rimettere, per diminuire lo spazio tra un uomo e una donna, forse è una scelta sbagliata. Sì, io credo che questo libro, quindi l'incomprensione fra la protagonista e suo marito, avrebbe potuto in realtà funzionare anche se il desiderio non fosse stato quello di maternità, perché si tratta semplicemente di un desiderio che va a scontrarsi con un'altra visione di vita, a prescindere dal fatto che ci sia l'esigenza di un bambino in lei e che questa esigenza non sia poi così vitale in lui. È proprio il desiderio, quindi la mancanza di possesso, che implica sempre un moto. In fondo, qualsiasi desiderio è un materiale narrativo per uno scrittore bellissimo, perché implica un viaggio, implica una mancanza e quindi un moto e quindi un tragitto. E questo tragitto poi, appunto, come diceva lei, non è interessante capire dove porta i due, il matrimonio, il rapporto con l'amante, ma è comunque nel tragitto che si consuma un'autodefinizione, cioè una consapevolezza in più di quello che questa donna è diventata negli anni. Adesso veniamo a parlare di un rapporto, perché è un libro molto femminile questo. Veniamo a parlare del rapporto della nostra protagonista, che con i suoi 37 anni, non sappiamo se definirla giovane o meno, ma in ogni modo ha una sua consapevole età, il suo rapporto con la madre, perché la madre è qui una presenza oltremodo importante. Sì, infatti sembrerebbe forse a prima vista un personaggio più marginale, in realtà poi c'è sempre, c'è sempre nello sguardo della protagonista su di sé e nello sguardo della protagonista sul mondo e sui suoi rapporti. C'è una frattura quando questa donna era piccola, il divorzio dei suoi genitori e quindi una figura paterna che è stato meno presente nella sua vita e di conseguenza, sempre riallacciandoci a quello che dicevamo prima del vuoto e nel vuoto che si è creato della figura paterna, c'è stato poi un posizionamento della madre molto ingombrante. Quindi questa donna a 37 anni a volte di fronte alla madre si sente ancora una bambina, una bambina di 37 anni perché si guarda e dice sono ancora così presa dal giudizio di mia madre, come se non potesse mai liberarsene. E ha a che fare questo senso del giudizio degli altri, non solo con l'affetto, il sentimento che prova nei confronti di sua madre, ma anche un po' con il suo luogo di origine. Perché io credo che il viaggio che dalla provincia, io condivido con la protagonista, ha varie caratteristiche, sono nata all'Aquila anch'io, mi sono trasferita a Roma, faccio la scrittrice come lei e credo che questo viaggio dalla provincia alla città porti comunque delle piccole ferite perché è come se si dovesse sempre dimostrare la validità di questa scelta che comunque ha comportato sempre anche una frattura, una ribellione. Quindi me ne vado, vi faccio vedere io e quindi è come se gli sguardi degli altri componessero sempre l'immagine di noi stessi e bisogna lottare per sapersene emancipare, sia dallo sguardo della madre, sia dal giudizio sociale del luogo d'appartenenza e in genere dai giudizi degli altri. Annelisa De Simone, visto che ha detto di alcune coincidenze con questa protagonista, anche lei dirige un festival di letteratura come la nostra protagonista? Io più che altro dirigevo un teatro, il Teatro Stabile d'Abruzzo, in realtà ero la Presidente e non il Direttore e sì, c'era un progetto di un festival e da lì ho iniziato questo percorso di creazione perché è un romanzo che è pura finzione, però ci sono tanti elementi che in realtà poi sono accaduti in modo diverso davvero e il bello è che poi uno scrittore può prendere anche tutto quello che è dispiacevole, è accaduto nella sua vita e rimodularlo, ricomporlo a seconda di ciò che serve e sì, quindi anche il festival di letteratura è qualcosa che condividiamo. Quanto la parola attesa è presente in questo romanzo, perché è vero quando c'è una storia tra amanti la parola attesa è una parola importante e quella parola permea ogni azione, attraversa ogni giornata e qui come la vive secondo lei, la nostra protagonista, questa parola? Sì, è vero, è una parola ricorrente non solo nei confronti dell'amante, ma l'attesa di una vita che è in bilico e che deve un po' ricomporsi in un altro modo, né lei né noi lettori sappiamo quale, quindi questo è il viaggio. L'attesa è poi a che fare anche con la paura, in fondo nella vita degli amanti c'è attesa ma c'è anche la paura di lasciarsi perché c'è una consapevolezza che forse a quel punto ci si dovrebbe arrivare, non si sa quando, ma è più scontato che la fine avvenga e un po' coincide anche con le paure di una madre, lei non è madre, vorrebbe diventarlo, ma vede attorno a sé delle madri che invece sono segnate da un'altra attesa, da un'altra paura più forte, più feroce che è la paura della perdita del proprio figlio. C'è questa scena in cui lei accompagna la sua migliore amica che è già madre in ospedale perché sua figlia non si è sentita bene e dice io non riuscirei mai a farcela al posto suo perché la paura della fine segna la vita di un amante, la paura della morte segna la vita di una madre e io forse non sono in grado. C'è un forte senso anche di inadeguatezza in questa donna che sembra antipatica in molti suoi caratteri, in molte sue espressioni, non è proprio simpatica, diciamo che è snob, è una persona piena di paure, a volte anche un po' persecutoria, però questa questa fragilità poi me l'ha fatta sentire molto vicina. Eh sì, ha una sua fragilità questa questa donna come tutti quanti i personaggi, come tutti quanti noi abbiamo le nostre fragilità e soprattutto dimostriamo la nostra fragilità, la nostra debolezza quando si cade in amore. Lei cita da un'intervista dell'attrice Fanny Hardin alla trasmissione, in una trasmissione televisiva proprio questa definizione del cadere in amore. E questo cadere in amore è importante, in questa caduta dell'innamoramento vediamo questa donna ma vediamo tutti quanti noi, la caduta dei sentimenti. C'è una parola inglese che si può, spero di non andare fuori tema, si può legare a questo perché in inglese to fall in love, si cade in amore, ma è qualcosa che accade, no? È come è come la parola felicità, no? È qualcosa che qualcosa che accade che non ti aspetti, come fosse una caduta, anche anche questa. Assolutamente, assolutamente sì. Noi in italiano non abbiamo questa resa in inglese, che in inglese e nella lingua francese si sente proprio in modo figurativo perché cadere in amore è come cadere in trappola. Però se ci pensiamo, innamorarsi è lo stesso prefisso di inabbissarsi, quindi comunque è un viaggio verso il fondo, non per forza angoscioso e negativo, però è una perdita di controllo, è una caduta, è un inciampo. È una caduta, è un inciampo e qui ritorna la famosa ferita a proposito di Chandra Livia Candiani. Il momento dell'addio, ammesso che qui ci sia un addio, non dobbiamo rivelarlo, il momento dell'addio di una separazione è sempre un momento particolare, no? Il dividere le cose. Gli oggetti in quel momento prendono, Annalisa De Simone, un significato particolare e quando lei, la nostra protagonista, la vediamo come se ci fosse una telecamera che con un rallentatore si sofferma sulle sue mani che sfiorano gli oggetti, no? Che sembra quasi di, almeno io l'ho detto così, che lei volesse prendere da questi oggetti un senso di appartenenza che tra poco non avrà più. Sì, e poi ci sono due momenti in realtà contrastanti fra loro perché quando lei si prepara a lasciare la casa del marito tocca gli oggetti come se fossero dei fossili, quindi delle testimonianze di quella storia d'amore che comunque è stata la storia d'amore che lei aveva scelto e su cui aveva appuntato. Invece gli stessi oggetti non sono attraversati dalla presenza dell'amante, che chiaramente è un amante che non ha mai fatto parte fisicamente di quella casa e quindi sono incontaminati e sono gli unici a non essere stati poi attraversati da questo terremoto emotivo che invece le appartiene e quindi è come se fossero dei punti di forza e non la testimonianza della fine e di una debolezza. Annalisa De Simone, autrice del romanzo Sempre Soli con qualcuno, pubblicato da Marsiglio. Prima di salutarci ascoltiamo un breve passo dal suo romanzo. Quale scegli Annalisa De Simone? Sì, ho scelto un piccolo brano che è all'inizio del libro. Ho giurato che non sarà certo la mancanza di un figlio a mettere in crisi il nostro rapporto, neanche lo voglio un figlio, o almeno non posso dire di desiderarlo, ma ho il terrore che un giorno finirò per sentirne la mancanza. Quel giorno impoterò la colpa a lui, mio marito. Deve pensare al lavoro, alla difesa dei diritti umani delle organizzazioni non governative, scalare i vertici dello studio legale in cui fa tardi la sera. Il lavoro è il centro della sua vita di uomo. Per tutto il resto c'è tempo, non ora, ripeto, non puoi parlarmi di un figlio ogni santo giorno. Ecco, il vino avrebbe dovuto calmarmi e invece sono su di giri. Come incantata da qualcosa, le dita sopra il calice vuoto, vengo distratta dalla pioggia improvvisa. C'è tempo per avere un figlio, anche se lui è più tempo di me tutto il tempo che vuole. L'acqua fiocca sulla piazza, insuppa ogni cosa, le buste di mondizia agli angoli dei palazzi, le cicche fra le fughe sghembe dei sampietrini, le foglie secche e gli insetti morti che trascina al centro, verso il tombino. E' in questo momento che mi accorgo dei due. Un ragazzo e una ragazza nell'appartamento di fronte. Quello che pochi mesi fa era un balcone, ora è una piccola veranda che fa da salotto. Sono sulla soglia, belli, entrambi ed entrambi esitanti, come a prendere confidenza con quella stanza di vetro. Si stanno scambiando uno sguardo pieno di tenerezza. Non parlano, ma è come se lo facessero. La credenza nuova la mettiamo lì, amore dove preferisci, lanciando nell'aria l'intuizione di una promessa a cui restare fedeli. Due ragazzi e sterminate scelte dure in avanti. La prima casa, lo stesso letto, gioie e tribolazioni, fin quando non saranno cresciuti abbastanza da convincersi che ogni giuramento nasconde uno spergiuro. Dal romanzo sempre soli con qualcuno abbiamo ascoltato un breve passo di Annalisa De Simone. Qual è invece il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni stavo leggendo, in realtà io inizio sempre più libri insieme, però quello che mi ha preso di più è il romanzo di Bernardino Evaristo, Ragazza, Donna, Altro, edito da Big Sur, che è stato il vincitore del Booker Prize. Ed è tra l'altro una delle letture che vengono più citate ultimamente dai nostri ospiti. Tra l'altro il romanzo è un libro veramente molto molto bello di Bernardino Evaristo, pubblicato da Sur. La traduzione la vogliamo ricordare di Martina Testa. Sì, ha ragione, perché ha ragione, scusi, è colpa mia, perché in effetti i traduttori sono troppo poco spesso ricordati, ha fatto bene. Grazie, grazie davvero Annalisa De Simone per il tempo che ci ha dedicato qui per il posto delle parole. Grazie a lei. Buona giornata a tutti.